A questo corso mi ha portato mia mamma e mio papà. Mi è piaciuto molto poter lavorare con altre persone e fare meditazione. A casa mi porto la conoscenza del metodo DC e la conoscenza della meditazione. Sì, lo consiglierei molto soprattutto per la meditazione e per la karma. Mi sono liberato molto di molti pesi e di molte cose negative. Vorrei ringraziarla tanto e voglio salutare tutto lo staff. Ciao!